cari amici del canale dentro la notizia a robimaster dedico questo tg flash ai nostri fratelli francesi che hanno dato vita ad una vera e propria rivolta dei popoli europei contro le malvagie elite tutto avuto inizio con le decise proteste in francia contro macron visto come un tiranno malvagio e privo di empatia per le sofferenze del suo popolo che anzi aveva e ha intenzione di vessare sempre di più ma i francesi non si sono lasciati schiacciare dall'elite e anzi hanno alzato il tiro inviando un comunicato stampa con le loro richieste ai parlamentari e ai media il documento intitolato dei people's guidelines e con l'etichetta yellow vest elenca una quarantina di punti che il movimento esige siano applicati questa è la seconda volta che un tale documento è pubblicato dai gilet gialli ma venerdì la nuova serie di richieste è scaturita da un sondaggio online realizzato sui vari gruppi di sostegno del movimento vi si legge in questa dichiarazione membri della francia vi informiamo delle direttive del popolo affinché le tramutiate in legge secondo fonti francesi la lista sarebbe nata per iniziativa di un manifestante della sarte ben 30.000 persone avrebbero partecipato a questo sondaggio sulle pagine di facebook del movimento al fine di migliorarlo come è andata la giornata scontri e disordini ai champelize almeno 100 le persone fermate decine i feriti in piazza migliaia di persone i fumogeni contro il cordone di polizia sono partiti da un gruppo di alcune centinaia di gilet gialli altri si sono diretti verso l'arco di trionfo con il volto coperto per proteggersi dai gas lacrimogeni lanciati dalla polizia alcuni gilet gialli hanno cercato di forzare un posto di blocco della polizia a place de l'étoile ma sono stati respinti ieri venerdì le manifestazioni si sono estese al belgio e hanno portato nella sola città di bruxelles a ben 60 arresti secondo quanto riferisce la polizia belga anche qui come a parigi sono stati usati gas lacrimogeni e un cannone ad acqua centinaia di manifestanti hanno marciato spontaneamente nella capitale belga al mattino occupando diverse stazioni e strade e cercando di bloccare il traffico i manifestanti hanno gettato oggetti nella residenza ufficiale del primo ministro charl michel e distrutto furgoni della polizia invitando il primo ministro belga charl michel a dimettersi michel è un alleato liberale del presidente francese macron anche lui un servo dell'elite contro cui i popoli si stanno ribellando il sindaco di bruxelles philippe claus esterefatto per questo improvviso contagio dei gilet gialli francesi in terra belga ha minacciato chiunque manifesti ulteriormente può essere arrestato claus ha usato il pugno di ferro contro la popolazione segno di evidente debolezza dell'elite al potere che non sopportano le voci di dissenso così il movimento si è diffuso anche nella parte meridionale del belgio lì tra le altre cose i depositi di carburante sono stati occupati la settimana scorsa ma non è finita qui i gilet gialli si stanno organizzando anche in olanda e hanno già dato i primi segnali di rivolta contro l'elite con le proteste di oggi sabato alaia li guarden nimeghen e maastricht un arresto è stato effettuato nella città di limburg tre alaia per ora in olanda il movimento è ancora piccolo perché appena nato ma possiamo immaginare che diventerà grande presto i gilet gialli alaia hanno un seguito più ampio rispetto a altre città olandesi qui il numero di membri riunitosi su facebook è cresciuto fino a quasi 12 mila persone in pochi giorni e l'iniziatore jody preuve si aspettava dai 500 ai 1000 partecipanti alla manifestazione le autorità riferiscono numeri più bassi cosa accomuna i gilet gialli dei tre paesi hanno gli stessi obiettivi ottenere misure per aumentare il potere di acquisto e subito perché troppi cittadini non arrivano alla fine del mese e secondo ridurre la distanza tra il governo e i cittadini i gilet gialli arriveranno anche in italia sarà il global compact a dare vita al movimento oppure la rivolta contro l'elite sarà scatenata dai continui dinieghi della commissione europea sul budget di bilancio italiano moderatamente espansivo o entrambe le cose i gilet gialli si estenderanno anche in grecia spagna portogallo e altre nazioni vittime delle manovre dell'elite tese a impoverire le persone e a renderle in schiavitù tramite governi fantoccio sempre più distanti dai popoli e in germania è una previsione facile e un avviso ai nostri di continuare ad ascoltare le persone evitando la pericolosa dissociazione da esse divenendo radical chic cari amici del canale youtube dentro la notizia robimaster avevo pensato di chiudere il tg flash in quanto ho messo in piedi una struttura troppo costosa che in grado di pubblicare notizie tutti i giorni senza guardare né feste né malattie sempre più persone stanno dando il loro contributo ma sono ancora poche o le donazioni sono basse ma al di là di questo è per me una grande delusione notare come la classe dirigente che dovrebbe per prima sostenere una libera ed imparziale informazione sembra più desiderosa di avere dei media compiacenti faziosi e che tacciono o deformano le verità io non ho mai attaccato nessun partito o uomo politico italiano giusto per mantenere la dovuta neutralità e imparzialità dovuta a chi se non a voi che mi sostenete diffondendo i video iscrivendovi numerosi e con le vostre donazioni donare è importante sotto l'aspetto psicologico perché chi dona è dimostrato si sente più coinvolto e in questo progetto a favore di tutti non posso essere lasciato solo un abbraccio dal vostro robin master